Giustizia per Ismaele, lo chiede a gran voce la comunità del Montefeltro che non si vuole arrendere di fronte al delitto da videogame come definito dagli inquirenti avvenuto nel luglio scorso a Sant'Angelo in Vado. Ismaele era stato stordito con un calcio alla testa legato con il nastro adesivo da pacchia di una croce di ferro e sgozzato. Dopo poche ore la macabra scoperta. Il suo corpo era stato trovato nel boschetto vicino alla chiesetta di San Martino in Salvanera, un omicidio brutale per il quale sono accusati due giovani di origine albanese, Igli Meta, ventenne di Urbane, Mario Mema, diciannoenne di Sant'Angelo, considerato il presunto complice. La coppia di amici gli aveva teso una vera e propria trappola e tutto solo per una questione di gelosia. Meta infatti era infastidito dalla frequentazione tra la sua fidanzata, Ambera, ed Ismaele. Nessuno però vuole dimenticare questa esecuzione che ha distrutto non solo la vita di Ismaele ma anche quella della sua famiglia. Al loro fianco i comuni di Lunano, Pian di Mileto, Belforte, Allisauro, Frontino e Carpegna che hanno organizzato una cena spettacolo insieme all'Associazione Monte Nerone e il Comitato del Fungo San Sisto. L'iniziativa in programma per sabato 14 novembre alle ore 20 al Palazzetto dello Sport di Monte Fiorentino vedrà protagonisti diversi gruppi che intratterranno la serata alletandola con musica e danza. Ospite d'eccezione l'ex modello affetto da sclerosi multipla, Ivan Cottini, che anche nei mesi scorsi si è fatto promotore di iniziative dedicate alla mamma Deborah, sempre in memoria di Ismaele. Con lui ci saranno alcuni ragazzi di amici di Maria De Filippi. Il ricavato della serata verrà devoluto alla famiglia Lulli per le spese processuali affinché giustizia sia fatta.